La Fiera è leader mondiale nell'audio-video professionale, è sempre stato un trampolino di lancio per nuove tecnologie, nuovi prodotti. Nella nuova edizione del 2023 già si annuncia con un'area espositiva del 30% superiore rispetto all'anno precedente. Quindi ci auguriamo di ritrovare un grande pubblico con una grande affluenza di visitatori, selezionati come sempre, e di riuscire a superare già il grande successo in termini di leads e di opportunità delle edizioni precedenti. L'azienda si è aperta verso un mercato parallelo al digital signage che ci ha permesso di cogliere delle opportunità importanti anche nell'energente mercato delle smart city. Da poco abbiamo festeggiato, da qualche anno, festeggiato i 25 anni dalla nascita dell'azienda e a 60 anni dalla posa del primo mattone, ma da allora restano inalterati l'entusiasmo, la creatività, la passione e l'innovazione per la tecnologia. Grazie a tutti.